Come si gestisce un team di lavoro da remoto? Come essere dei leader se stiamo lavorando con un team in smart working, quindi da lontano, da remoto? Oggi parliamo di remote leadership. Io sono Luca Facci, sono un remote project manager. Con mio fratello e il nostro team di lavoro ci occupiamo di formazione e consulenze per aziende in ambito marketing, management, per lo sviluppo del business online. Oggi ti voglio parlare della leadership da remoto, la remote leadership. E parliamo innanzitutto di team, quindi ti faccio una panoramica di quelli che sono due principali tipi di team con i quali potreste trovarti a lavorare o magari ti riconoscerai in uno di questi due tipi di team e poi come andiamo a gestire come leader questi due tipi di team. Quindi quali sono le due tipologie di leadership che possiamo attuare appunto per la gestione di un team e quale è più adatta per il lavoro da remoto. Allora iniziamo definendo un primo tipo di team che è il team star. Vediamo se ci stiamo Nel team di tipo star è un team a stella appunto quindi c'è un leader in mezzo che va a controllare un team distribuito in questa maniera. Fatto uomini e donne Nel team star quindi c'è un leader al centro, un manager centrale che va a controllare le risorse che si possono trovare in ufficio ma anche in remoto appunto. In questa forma di collaborazione il manager, il leader ha un ruolo gerarchico di solito ben definito e si ha una leadership di tipo command e control, dopo vedremo bene. Quindi diamo gli ordini dal centro e controlliamo che vengano verificati. Un'altra forma invece di collaborazione, un team che potreste avere è il team che viene definito spaghetti, perché adesso lo vediamo. Quindi team spaghetti, facciamo la stessa forma di prima Ok, in questo caso non c'è un leader centrale Ok, quindi escludiamo la forma centrale Ma il leader è parte del team E a questo punto tutti comunicano con tutti Quindi vedete come in questa forma di collaborazione abbiamo un gran coinvolgimento di comunicazioni diverse Quindi ogni membro del team comunica e interagisce con tutti gli altri membri Per questo viene detto team spaghetti, appunto per la complessità della comunicazione Ecco, molto spesso nei team di lavoro da remoto si ha questa forma di collaborazione E adesso vedremo che tipo di leadership dobbiamo attuare per quella forma di collaborazione Ma intanto quando si utilizza meglio questa forma di team a stella e quando invece usare un team, lavorare con un team a spaghetti Diciamo che il team di collaborazione a stella è un po' il primitivo dei team di lavoro È un po' un ambiente gerarchico simile ai militari E in verità è antico ma funziona ancora molto bene nelle situazioni di emergenza O in attività che sono ripetitive, controllate, che si ripetono sempre uguali Non dobbiamo inventare nulla, sappiamo esattamente che cosa bisogna fare entro quando Quindi attività ben definite, ripetitive o attività in emergenza possono richiedere un team di questo tipo Dove c'è una persona al centro che dà gli ordini e dice che cosa bisogna fare E controlla che sia stato fatto entro quella data Ecco, con questo tipo di team possiamo avere una leadership di tipo CPC Ossia Command and Control Il leader comanda il team e controlla che vengono raggiunti i risultati come ha richiesto È una forma di leadership appunto un po' primitiva, un po' più antica Veniva attuata per esempio dalla Ford, negli stabilimenti Ford Ricordo che c'è una frase che diceva Ford Cavolo, tutte le volte che chiedo due mani per lavorare nel mio stabilimento Arrivano con un cervello attaccato Ecco, per lui è un problema che le persone abbiano un cervello che pensino Perché devono fare delle attività meccaniche ripetitive, catena di montaggio Quindi a lui andava bene avere delle persone che eseguono gli ordini nel tempo previsto Nelle modalità previste Con un controllo da parte gerarchica centrale Comando e controllo Ok? Questa è una forma di collaborazione appunto pratica In ambienti militari, situazioni di emergenza Ambienti dove i progetti e le attività sono ripetitive Ma oggi abbiamo tantissimi progetti che richiedono intelletto Invece richiedono proprio quel cervello che Ford non voleva nella catena di montaggio Più che le mani Quindi il nostro team è più forte se le persone pensano con la loro testa E per lasciare che le persone pensino con la loro testa E interagiscono come un organismo unico che comunica È necessario un diverso tipo di leadership Che chiamiamo nuova leadership, ok? Quindi che cos'è il leader di queste forme di team? Ricordo sono team che vanno molto bene in ambienti mutevoli In progetti dove non sappiamo esattamente come si devono fare le attività Ma ce le dobbiamo inventare di volta in volta Quindi non sono sistemi complicati ma complessi Cioè ogni volta che vado a risolvere un problema Lo devo risolvere in maniera diversa C'è bisogno della testa delle persone Per esempio io penso a studi di progettazione Penso ad attività di consulenze Web agency Noi per esempio facciamo campagne online per i nostri clienti Abbiamo una situazione di questo genere Penso proprio al settore soprattutto dei servizi Il settore terziario Dove c'è un'alta componente di attività intellettuale nel nostro lavoro I famosi knowledge workers sono persone che portano valore al mercato Vengono pagati per la loro conoscenza Più che per l'attività che fanno Ecco, lì serve un team così Perché il team deve essere in grado di affrontare sempre problemi diversi e superarli Tornando al leader Che cosa deve fare questo nuovo leader? Se non deve più dare gli ordini Perché abbiamo detto che non esiste più il leader al centro Ok, questo non c'è Che cosa deve fare il leader? Il leader deve fare da coach e da facilitatore per i membri del team Che cosa vuol dire? Vuol dire che deve assicurarsi che i membri del team lavorino al meglio Deve rimuovere gli ostacoli Quindi se magari un membro del team ha un computer lento Potrebbe essere che lui riconosca il problema E dica alla proprietà di sostituire quel computer Perché così questa persona può lavorare meglio Quindi rimuovere gli ostacoli del team Come fa a farlo? In riunione settimanale Si dice che cosa si è fatto Che cosa faremo la settimana prossima E quali sono i problemi che le persone hanno E lui magari tenta di risolverli Un'altra cosa è fare da coach le persone Cosa vuol dire fare da coach? Fare da coach vuol dire non dare delle soluzioni dettate alle persone Ma fare in modo che le persone trovino da sé le soluzioni Dare le armi alle persone in modo che trovino la soluzione Per esempio il famoso detto Non insegnare a un uomo a non dare un pesce a un uomo Ma insegnargli a pescare Ecco il leader qui deve insegnare le persone a pescare Quindi deve insegnare le persone Ad essere in grado di procurarsi poi il pesce da soli Ossia riuscire a risolvere i loro problemi da soli Quindi deve fare formazione, training Deve continuare a istruire le persone Il leader, una cosa importante Che nelle aziende tradizionali ci sono stato Sono stato anche project manager Spesso il project manager fa le cose Il leader non dovrebbe fare le cose Le cose dovrebbero farle il team Però quello che deve fare lui è continuare a fare formazione Istruire le persone su come fare queste cose Ed è un lavoro continuo Perché le persone passano a diversi stadi di apprendimento E ci mettono tempo a imparare a fare le cose correttamente Quindi il leader deve continuare a rinfrescare questa memoria Deve essere un coach che motiva le persone E fa in modo che le persone si settino degli obiettivi E che poi li raggiungono Quindi è questo che deve fare il nuovo leader È parte del team Non è sopra il team Non è sotto È insieme al team È dentro il team spaghetti E si deve occupare appunto che il progetto vada avanti Che il team lavori bene Che le persone siano contente e felici Ecco Questo è quello che insegniamo nel nostro corso Remote Project Management Se vuoi dai un'occhiata Troverai un link qui sotto Noi insegniamo come gestire sia team di questo genere Che team di questo genere E nel corso parliamo di tre aspetti fondamentali Per gestire i team di persone Specialmente da remoto Non ci occupiamo nello specifico di lavoro in remoto Perché pensiamo che sia il futuro del mondo del lavoro Molti nel settore del servizio Stanno passando a team di collaborazioni in remoto In smart working Quindi aprendosi a tutto il mondo A possibili collaboratori E a nuove opportunità di mercato Ecco Noi affianchiamo le aziende In modo che riescono a gestire progetti anche all'esterno O collaboratori sparsi in tutto il mondo In diversi fusi orari In diverse regioni del mondo Attraverso il nostro corso Remote Project Management Che cosa insegniamo? Insegniamo delle metodologie di gestione Quindi come si gestiscono i processi Come si gestiscono i progetti Per farli progredire con questi team Poi insegniamo gli strumenti Quindi anche Quelli che sono i tools Gli strumenti pratici Da utilizzare per lavorare meglio da remoto Quindi strumenti di comunicazione Strumenti di produzione Strumenti di gestione di attività Strumenti di tracking Di pianificazione Quindi diamo dei consigli Noi non siamo legati a nessuno strumento Ma di tipologie di strumenti E diamo poi anche dei consigli pratici Su come utilizzarli Infine andiamo a vedere la mentalità Perché queste persone che lavorano in remoto Magari sono a casa Che lavorano da sole O lavorano da uno stato Dove sono solo loro Per quell'azienda Che lavorano da lì Quindi sono anche isolate Ecco L'importante è che siano quindi coinvolte Motivate L'importante è avere la giusta leadership In ogni situazione E quindi abbiamo una sezione Dedicata alla mentalità Per il lavoro da remoto Quindi se vuoi saperne di più Vai a vedere il link qui sotto E scoprirai di più Sulla remote leadership E sul lavoro in remoto A presto